Mentre proseguono le operazioni di sanificazione di tutti gli ambienti del municipio, avviate il lunedì con il comando di polizia locale, a Stradella il primo agente è rientrato ufficialmente in servizio dopo alcuni giorni di quarantena, un periodo più breve dei 14 giorni previsti, in quanto questo viene fatto iniziare dall'ultimo contatto con la persona positiva, che nel caso specifico risaliva al 2 marzo scorso. Se nulla accadrà, giovedì dovrebbero rientrare altri due agenti e via via così fino al weekend, quando tutti gli otto addetti potranno tornare al lavoro e la convenzione con Broni, che tuttora sta prestando i suoi agenti a Stradella, andare gradualmente a chiudersi. Intanto, sebbene non ci siano notizie ufficiali, alcune indiscrezioni danno le condizioni del comandante della polizia locale stradellina, Giampiero Bellinzona, ricoverato nel locale ospedale in miglioramento. Oggi è rientrato il primo agente di polizia locale e dentro la settimana dovrebbero rientrare tutti. La mia vicinanza è quella dell'amministrazione a tutti gli agenti per quello che hanno dovuto in questi giorni vivere. Gli siamo vicini e aspettiamo certi che al più presto potranno riprendere la normale attività di servizio per il bene della nostra città. Gli uffici del comune riprenderanno le attività da mercoledì, ha spiegato il vice sindaco Di Michele, che tuttora sostituisce il sindaco Cantù, ancora indisposto, anche se sempre in gran parte da remoto. Grazie alla deviazione delle linee telefoniche in queste ore si spera che vanno anche a risolversi i problemi di comunicazione, che ci sono stati segnalati da diversi utenti che nei giorni scorsi non sono riusciti a contattare gli uffici. Da domani il municipio riprenderà le attività come già precedentemente indicato per i servizi indifferibili, quindi c'è comunque un lavoro da casa e non c'è la presenza massiva di tutti i dipendenti in comune, anche a maggior tutela di tutti. Le principali attività di sanificazione sono state di due tipi, una con prodotti chimici che ha riguardato sia le strade del centro e delle frazioni che gli uffici pubblici e la seconda per tutta la giornata di martedì con l'utilizzo di ozono.